I risultati della consueta indagine trimestrale dell'osservatorio congiunto Camera di Commercio Confindustria sul sistema manifatturiero a retino aprono anche il 2013 con il segno negativo. L'indicatore della produzione presenta infatti una contrazione dell'1,4% rispetto al corrispondente periodo del 2012. Si tratta della settima contrazione consecutiva che, comunque, sembra confermare l'attenuazione delle difficoltà. Un po' più elevata la contrazione del fatturato che potrebbe essere una spia di possibili politiche commerciali di prezzo in una fase di mercato particolarmente debole. L'indicatore più importante in termini di previsioni è però quello degli ordini. Nel complesso il portafoglio ordini delle aziende si è mantenuto sostanzialmente stabile nel periodo, con la domanda estera che presenta comunque un andamento più vivace, più 2,4%. Il dato occupazionale presenta una decisa contrazione, meno 2%. Dal punto di vista dei settori economici si iniziano a rilevare alcuni segnali positivi. In particolare i macchinari e mezzi da trasporto presentano un rilevante più 16,8% nella produzione, un più 13,6% nel fatturato, ma, cosa importante per l'attività nei prossimi mesi, confortanti segnali sul fronte degli ordini, più 11,9%, in particolare quelli esteri. Il settore orafo, dopo tre anni di continui segni negativi, torna a crescere del 4,3% nella produzione e del 3,6% nel fatturato. Sono le aziende di dimensione maggiore, quelle da 250 addetti in su, a presentare risultati migliori nella produzione. Le altre due classi dimensionali, fino a 49 addetti e da 50 a 249 addetti, accusano invece una flessione produttiva che si attesta rispettivamente a meno 2% e meno 1%. L'occupazione cala sia nelle piccole imprese fino a 49 addetti, meno 2,9%, che nelle medie da 50 a 249 addetti, meno 0,8%. La prima rilevazione trimestrale del 2013, commenta il presidente della Camera di Commercio Giovanni Tricca, pur confermando le difficoltà sul nostro sistema manifatturiero, sembra evidenziare alcuni, sia pur parziali, segnali di inversione e di tendenza. Rimane comunque fondamentale, continua Tricca, a dare supporto al nostro sistema economico locale, operando congiuntamente a livello nazionale e a livello locale.